Saluto Aya, professore, come? Io sono in, via. Io, io, io. Che formano sei? Fondo, io, io. Io sono in, via. Io sono in, via. Io sono in, via. Hai. Io sono in, via. Io sono in, via. a golpeare in piedra ok? vamo cada movimento di arte marciale di salute è una defensa vamo questo studio va a fare la defensa con l'anitonia sta volando a la via tenia 12 anni quando qui lo dejò e ora volviò una mamosa quindi un mes di nuovo con l'anitonia volviò a lo mismo osea posso fare l'exemple mio qui sono con l'anitonia però lo viste a tratar fuerti qui i 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